Ahai people of YouTube! Lasciate un secondo che vi spieghi il perché di questo titolo. Allora, semplicemente, questo video nasce dopo aver visto un'immagine di Pio 3D sul suo Facebook. Ciao Pio! L'immagine in questione metteva assieme tutte e tutte le ore di video create da lui, ovvero Pio 3D. Compresi vecchi video, compresi quelli nuovi, erano 42 passa ore di video. Allora, cosa ho pensato? Perché non farlo anch'io? È una cosa che mi incuriosisce anche dal punto di vista personale e sì, è una cosa che vi vorrei portare, far vedere quanto tempo ho lavorato su ogni video. Che fossero gameplay, che fossero video di manga, che fossero video anche a caso, come per esempio l'andare in giro per le fiere, fare i vlog, cose di questo tipo. Allora, vi spiego il perché quindi del nome. 365 giorni di video, ovvero, questo video, siccome ho superato i 365 video, voleva essere appunto il 365esimo. Purtroppo sono arrivato a 370 e passa e quindi ciuccia. Però il titolo rimane perché è oltre un anno di video e quindi, visto che sono ormai 5 anni che faccio video, voglio mettere tutti i miei video assieme per vedere quanto tempo ci ho dedicato su tutti i miei video. Ciao! 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 Ciao!